Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Sono lo Smart Spunky Pro, sono un paio di auricolari full wireless che mi hanno convinto. Scopriamo subito perché. Nella confezione di cartone troviamo gli auricolari che sono nel loro case, che funzionano anche da ricarica, dei foglietti di istruzione e garanzia e alcuni gommini di ricambio e un cavetto da USB-A type USB perché meno male hanno questo connettore, quindi comodo che potete ricaricarlo con quello del vostro smartphone se ha già questo connettore. A primo impatto non si può dire che i materiali siano molto premium, però comunque nell'uso quotidiano non ho avuto problemi, nessun schicchiolio o segno di debolezza. Il design è carino e comunque diverso dal solito con il pulsante che sblocca la chiusura e poi la chiusura e la scorrimento, quindi design diverso dal solito che comunque gli è piaciuto molto. Il case è molto piccolo e leggero, comunque sta facilmente in tasca senza nessun peso eccessivo. Questo sistema di apertura e chiusura è comodo e rapido e comunque anche gli auricolari sono molto piccoli, quindi una volta inseriti non cadono e sembrerà di non avergli perché comunque sono davvero piccolissimi. Parlando invece di come sono fatti, all'esterno del case troviamo il tasso di apertura, che come vi dicevo è rapida, la porta USB tipo C quindi per la ricarica, qui troviamo dei led bianchi che indicano la ricarica residua, invece al suo interno troviamo due slot per la ricarica, purtroppo non sono facili da inserire quindi ho avuto anche difficoltà alcune volte perché sbagliavo alla posizione quindi ci ho messo un po' inseriti ma comunque bisogna farci un po' l'abitudine. Comunque la ricarica è tramite dei pin, mentre sul retro di ogni auricolare c'è un led che indica sia quando è in corso la carica che il funzionamento. Sempre sul retro poi c'è un'area touch che permette di regolare il volume e cambiare traccia, come tutte le cofie di questo tipo succede che sistemando gli auricolari nell'orecchio si stoppa la musica, comunque vabbè questioni di abitudine comunque non cadono particolarmente quindi diciamo che non è un grosso problema. Mentre per quanto riguarda l'audio molto bene, il volume è molto alto e confortevole, ora abbiamo alti e medi che sono ben bilanciati, mentre i bassi ci sono ma non sono forti, comunque in generale vanno bene. Lato a connettività abbiamo il bluetooth 5.0, comunque la connessione è molto stabile, si connettono immediatamente, anche se mi è successo alcune volte che estrendono entrambi gli auricolari dal case, solo uno si accende quindi non si possono abbinare, comunque non succede sempre ma qualche volta è successo. Poi per il resto comunque si estraggono e si connettono e quando si ripongono nel case si spengono, quindi si sconnettono anche dal cellulare o comunque dal computer o tablet, insomma dal dispositivo bluetooth a cui l'avete connesso. Per quanto riguarda l'autonomia, con una sola carica si fa 3 ore e mezzo di utilizzo con gli auricolari, comunque riponendoli in carica appena non si usano comunque si arriva fino a 18 ore di utilizzo, quindi autonomia molto buona. Poi comunque ho apprezzato molto avere il connettore Type-C, quindi è comodo avere il connettore reversibile che ormai è disponibile per vari dispositivi tecnologici come smartphone, tablet e anche computer, e poi c'è anche la ricarica wireless, quindi basta appoggiare il case su una basetta e comunque parte subito la ricarica, quindi da questo punto di vista è comodo. Siamo giunti alle conclusioni, il prezzo su Amazon è di circa 70 euro, quindi un prezzo non bassissimo ma comunque, ma stiamo comunque di fronte a degli auricolari comunque di buona fascia, che comunque funziona davvero molto bene. Comunque come qualità costruttiva e design promossi sono comodi, piccolissimi, il case originale con questo sistema di apertura, per te soliti che sono più classici, comunque la qualità audio c'è e comunque mi sono piaciuti. Ringrazio Tronmart per il sample, in descrizione il link per l'acquisto, iscrivetevi al canale, sul sito trovate la rifianzione scritta con maggiori dettagli e sarà anche aggiornata nel tempo come sempre succede, perché gli articoli posso aggiornare in futuro il video o no, comunque grazie della visione, iscrivetevi, ci vediamo alla prossima sempre qua sul canale, ciao!